Beh, sapete, amici, un uomo ha bisogno ogni tanto di vivere a contatto con la natura selvaggia. Ma un uomo non serve molto. Dategli un bel tramonto, la livida luce dell'alba. Basta una tenda, una foresta, una maglietta nera, per me è già festa. Un bel prato verde e un ruscello, se c'è. Non serve altro, la natura fa proprio per me. Basta una sdraio ed il solleone, tanta lasagna che sia almeno un vagone. Basta un cuscino, il più grande che c'è, non serve altro, la natura fa proprio per me. Buongiorno. Buongiorno, Ranger. Nome? John Arbuckle. Quanto pensa di fermarsi? Beh, direi almeno una settimana. Una settimana? Sarò ricoperto di muschio in una settimana? Questo gatto è suo? Sì, Ranger. Le mie condoglianze. Garfi! Volevo solo ringraziarlo. Si cerchi un posto sicuro, signore. Perché? Non ci saranno certo orsi feroci in questi ameni luoghi. No! L'animale più pericoloso è un castoro con una particolare predisposizione alla sporcizia. D'accordo, allora grazie infinite. Grazie mille! Prarrere all'interno giocaggio. App Dawch! Carab